Diciamo più la cosa calcistica, avevo qualche altra offerta, ma ho scelto la cosa più calcistica, meglio per me, cioè voglio salire in ZRB, sono venuto qua, una squadra con ambizioni. No, quando non credevo in questa cosa, nella mia scelta non venivo qua, potevo andare ad altre squadre, quindi io vengo qua per vincere le partite e alla fine del campionato si fa i conti, o si fa o non si fa, ma questo si decide solo nel campo. Le partite ci sono, 9 punti, sembrano tanti ovviamente, ma quando vince il scontro diretto che abbiamo ancora contro il Bari, sono 6 punti, e dobbiamo vincere le nostre partite e da lì si vede che si può fare. Io credo che calciare il pallone è come guidare la bicicletta, il piede è sempre lo stesso, quindi quando è caldo è caldo, quindi devo solo tornare in forma, fare allenamento con la squadra, sto a mille. Non avevo modo ancora di parlare con il mister, ma ho parlato con tutto l'altro staff, quindi il mister lo conoscerò presto. Sì, la Serie C è dura, si sa, anche per me la Serie C qua giù è la più difficile di tutti, per me personalmente, ovviamente ognuno ha la sua scelta, ma io prendo questa la più difficile della Serie C, quindi sono tante squadre che sanno giocare a pallone, è un campionato duro e noi facciamo il nostro. Come ho detto, mi metto a disposizione, quando il mister mi dice fai il quinto a sinistra, fai il mezzala, mi metto in campo e devo dare il massimo uguale dove mi mette il mister ovviamente, perché prima personalmente devo fare per me bene e dopo ovviamente per aiutare la squadra per vincere le partite, altrimenti mi faccio male solo a me stesso quando gioco male, quindi uguale dove mi mette il mister e dove è il massimo. Sì, Presidente. Devo giocare a pallone come si deve e come lo so fare e quindi lo voglio ripagare questa fiducia che mi ha dato il Presidente.